Ed ora cambiamo argomento, dopo Trani ha fatto tappa nel Salento, precisamente a Copertino, Calici di Stelle 2013, registrando un altro straordinario successo. Vediamo il servizio. Così come in tutta Italia, il brindisi di Calici di Stelle è dedicato a Giuseppe Verdi in occasione della ricorrenza del bicentenario della sua nascita. Calici in alto per la quindicesima edizione dell'evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino, che ha registrato oltre 60.000 presenze in tutto. A Trani, prima tappa di Calici di Stelle, martedì 6 agosto, e a Copertino, nella Notte delle Stelle Cadenti, nella terra d'Arneo, con il supporto del GAL, che ha fra i suoi obiettivi prioritari, quello della valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Mettere insieme tante sinergie, ma soprattutto le bellezze dei borghi antichi, dei monumenti collegati con l'eno gastronomia e con il vino di eccellenza della Puglia, in questo caso, non solo del Salento e della terra d'Arneo, ci riempie di orgoglio. All'evento hanno preso parte oltre 50 aziende vinicole pugliesi, 7.000 le bottiglie stappate e centinaia i residenti e turisti che hanno affollato il centro storico di Copertino, in provincia di Lecce. Non dimentichiamo che noi siamo la terra del vino rosso, siamo la terra di San Giuseppe da Copertino, siamo la terra che è stata cantata da Carmelo Bene nei suoi versi, siamo la terra che ha dell'accoglienza e della volontà di far partecipare, di fare festa, di stare insieme, il proprio vessillo. Un altro straordinario successo per Calici di Stelle, anche quest'anno a Copertino, con appuntamenti dedicati alla degustazione dei vini e degli oli e extravergine d'oliva di Puglia, che ha visto nell'assessorato alle risorse agroalimentari la partnership per la realizzazione dell'evento. Una serata come questa è la dimostrazione di come ancora l'enogastronomia riesce ad attrarre interesse e soprattutto anche turismo. Bollicine e nonne in calici a spasso sotto le stelle e tra i monumenti storici in una sera d'estate. Calici di stelle è questo. E non è mancata la musica tradizionale pugliese con l'issibizione della compagnia Puglia Wine Love. A prova di naso il nome dell'iniziativa che ha dato la possibilità di ammirare le stelle grazie all'osservatorio astronomico e ancora, sempre nel castello, la mostra di radio d'epoca, oltre 2000 i visitatori. L'incanto di 12 grammofoni dei primi del Novecento, perfettamente conservati, azionati a mano per diffondere le note delle opere verdiane ispirate al vino, nello spettacolo Grammofoni in concerto, a cura del museo delle radio d'epoca di Verona. Ci sono melomani, giustamente, che sono lì, che ti ascoltano con passione e che nessuno disturbi perché si arrabbiano. C'è giustamente il curioso perché non ha mai visto un grammofono suonare su dischi di cent'anni. A mezzanotte, infine, ancora un brindisi che, come a copertino, si è tenuto in contemporanea in tutti i luoghi d'Italia in cui si è svolto calici di stelle.